Credete all'amore a prima vista? Io sì. Specie quando si incontra il 50 F1 di Fujinon. Come non si può cadere innamorati di un obiettivo come questo? Ma sì certo le solide cose pesa tanto ma chi se ne frega stiamo parlando di un obiettivo che è un obiettivo di qualità. Serve il vetro, serve quello ad alta volato come per i telescopi spaziali che devono andare a pescare l'ultimo millimetro di lunghezza d'onda. Beh certo però è molto ben governabile e soprattutto strabiliante anche a tutta apertura ma prima di parlarvi di questo lasciatemi ringraziare Luca e Gabriele di RCE Foto Livorno perché è grazie a loro che riesco a raccontarvi di queste cose che mi dispiace anche dover restituire perché è veramente un obiettivo di cui innamorarsi. Quindi RCE Foto Livorno ma RCE Foto tutto il gruppo il più grande mercato di usato fotografico garantito che abbiamo in Italia e poi lasciatemelo dire questi obiettivi che sto provando effettivamente sono nuovi anche se venduti come usati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ideato per il sensore di tipo APS-C non è nient'altro che un obiettivo da ritratto. ma che obiettivo sì ve l'ho detto pesante perché c'è il vetro stiamo parlando di 850 grammi mica pochi però vedete si impugna molto bene perché è corto e tozzo quindi il peso è qui. Poi fantastica che cosa questa ghiera dei diaframmi che su Fujinon si trova spesso anche negli obiettivi dedicati al medio formato digitale perché è comoda perché posso concentrarmi liberamente sulla composizione sulla foto anche nel servizio quello dinamico mentre mi muovo e adeguo la mia profondità di campo con questo movimento in continuo posso anche pensare di fare quei due tre scatti subito uno due tre così cambiando agevolmente velocemente la profondità di campo talvolta serve anche per portare a casa uno scatto sicuro fra i tanti perché comunque specie nella moda ma comunque in generale il soggetto si muove tanto le modelle al ritmo di musica come i modelli per carità quanto i bambini quanto anche gli animali che adoro fotografare. L'autofocus è un autofocus veloce certo se coniugato per esempio al battery grip di questa camera o con dei modelli anche leggermente più performanti della xt4 le cose migliorano ulteriormente non è un bolide ma sì ogni tanto leggo qualche recensione anche insomma di illustri colleghi ma l'autofocus però ma non è nato per fare chissà che cosa se penso all 85 1.2 canon mi viene in mente che questo è decisamente più reattivo anche se ve l'ho detto non fa le corse da una staffetta all'altra però è preciso e soprattutto f1 significa tanta qualità cremosità e soprattutto un fuori fuoco eccellente però molti io lo so vi sento state dicendo beh però f1 non si può usare perché la nitidezza invece no cari miei questa è stata la bella scoperta è un f1 che è assolutamente utilizzabile però voglio raccontarvi la mia esperienza quando l'ho preso in mano per la prima volta sì amore a prima vista beh certo ma come si fa a non innamorarsi di un obiettivo come questo è vero però buttando dentro l'occhio nella macchina sì bello molto bello anzi però non è che mi faccia poi guardando le foto si capisce il resto della storia un po come a dire che il peso in termini teorici della macchina della fotocamera ha la sua rilevanza su una fotocamera per esempio con un mirino leggermente migliori di quello della xt4 le cose diventano davvero prelibate qui ci toglie qualcosina in termini di suggestione di invito alla fotografia però cari amici è una goduria ma poi vedete che vi sto facendo la recensione maneggiando questo io non sono certo mister muscolo però battery grip con tre batterie e 845 grammi di obiettivo sono assolutamente maneggiabili questa è una cosa importante perché il milvus della zeiss che è un obiettivo per me da riferimento al di là del fatto che è un manual focus e questo taglia le gambe a qualsiasi velleità di ripresa che sia dinamica e quindi non solo statica e dopo un po veramente fa cascare le braccia qui invece qui invece no questo fa davvero la differenza quando mi compro un obiettivo e lo uso lo utilizzo andiamo a vedere le foto stepper motor filtri da 77 lo abbiamo detto 850 grammi di peso non è poco e soprattutto a dispetto di quello che ci raccontano le immagini è composto da abbastanza abbastanza vetri cioè 12 elementi in nove gruppi con una distanza minima di messa a fuoco che si 70 centimetri però corrisponde ad uno 008 per cento di ingrandimento avrei preferito un pochettino di più e beh ma qui entra in ballo stefano incontentabile magari lo volevo anche macro e magari lo volevo anche insomma è così bello che viene un po da montarlo sulla camera e cercare di riprendere tutto scoprendo volta per volta quello che sa fare nel mio caso ad esempio sì il ritratto certo è facile dire che è un obiettivo nato per il ritratto ma è quanto riesce a creare lo stacco dal soggetto e soggetti di diversa taglia e a distanza diversa dallo sfondo e questa è la sua capacità i colori non solo la resa del fuori fuoco quei colori che sono decisi quando sono forti ma anche morbidi quando devono essere morbidi delicati sfumati ad esempio gli obiettivi a grande apertura non sono fatti per scattare al buio si intende oppure per avere dei tempi di scatto da un 40 millesimo di secondo sono fatti per lavorare anche quando la luce è poca quindi al crepuscolo all'alba le foto degli interni quando la luce leviga cade appena sul soggetto ecco perché mi piace un obiettivo come questo ed ecco perché nella mia piccola collezione dei vari brand che ho o quantomeno sempre un super luminoso perché sono quelli che riescono a cogliere le finezze l'intensità della luce con i suoi vari gradienti anche quando non siamo in piena luce perché lì sono capaci un po tutti assolutamente promosso ed allora beato chi se lo può acquistare beato chi lo troverà soprattutto in queste condizioni perché è un obiettivo con il quale ci si toglie davvero più di qualche sfizio la qualità è eccellente il dettaglio lo avete visto anche nelle aperture generose ma soprattutto la capacità di raccogliere l'atmosfera di quelle foto intime di quelle foto dove la luce lambisce il soggetto quel vedo non vedo la la soglia tra il vedo e non vedo cioè tra la luce e l'ombra e io questo mi aspetto da un obiettivo da ritratto e questo voglio vorrei che un qualsiasi obiettivo non solo da ritratto mi correggo addirittura qualsiasi obiettivo riuscisse a dare questa progressione di luminosità e non quello scatto quel gradino tra ora c'è la luce poi sì ce n'è un po meno e poi c'è il buio no qua in mezzo ci sono 50 sfumature di grigio no molte di più sono quelle belle che vanno raccolte a patto di avere un buon obiettivo e anche un buon sensore come questo fujinon che monta sulla xt4 cari amici grazie vi invito a seguire i prossimi video e alla prossima